Nuova pausa pranzo, nuova pausa, remix! Nel remix di oggi vedremo il fantastico Checco Zalone. Il bagno è libera. E vai a cacare. Puoi ripetermi la dinamica dell'incontro con Lorenzo? Ancora, allora ve lo spiego per l'ultima volta. Io il bambino l'ho chiamato normalmente. Bambino... Niente, non rispondevo. A quel punto ho alzato il tono. Bambino! Gridandolo. E il bambino mi ha... Ma lei... Chi è? Scusi? Sarei la psicologa che cura Lorenzo. Lo torino ci vuole a tua figlia, Zoe. Cerume. Qual è il cerume? Fate li prescrivere. Cotton fiocchi. Gigi, gigi, gigi. E hai risolti i problemi. Va bene? Signore, io devo andare adesso. Riccolò! Non lo farò andare via. Dove siete diretti? Noi cercheremo da dormire qui stasera. Perché non vi fermati qui? No, non posso accettare. È gratis. Sì. Accetto. Ma che succede? Checo! Madre, perdoni. Perché loro non sanno quello che fanno. Checo, mi dispiace, io non so come possa essere succeduto. Checo! Checo! A domani!